Non dimentichiamoci del Cecco Perez ragazzi, alla fine la spunta lui sulle due Ferrari che ormai erano ad un passo dalla doppietta da podio. Porta a casa la seconda posizione con le unghie e con i denti, nonostante le gomme ormai completamente andate. Lui sale sul podio dimostrando di meritarsi una monoposto 2021. Sì, stavamo il nostro spettacolo, benissimo! Quindi, inizialmente, tu avessi passi Vettel e Occon è andata, ma... ...it's up to you. Sono molto preoccupi con i miei rischi, ma che mi informe. Sì, è solo Verstappen dietro a te, ora è vicino, ma dovremmo stare a te. E poi Occon è andata dietro a te. Venga, venga! Do you park to the left of the Mercedes P2?